Abbiamo qui in studio il sindaco di Caltanisetta Roberto Gambino perché dopo aver visto il servizio sul policlinico ha chiamato in redazione perché ci ha chiesto di voler intervenire proprio anche sugli argomenti che il servizio che riguardava il policlinico ha trattato. Intanto sindaco benvenuto nei nostri studi. È un policlinico diffuso o è un policlinico confuso? La battuta è bella però noi diciamo una cosa sicuramente il policlinico si può istituire solo se ci sono le specialistiche di alto livello e io le dico che le specialistiche di alto livello stanno solo a Sant'Elia perché l'idea di secondo livello è qui. Per cui per l'istituzione del policlinico si deve tenere conto obbligatoriamente dell'ospedale Sant'Elia quindi su questo non ci sono dubbi. Ma c'è anche il piano B sindaco ovvero quello di diffondere le specialistiche negli altri due ospedali che potrebbero essere degli ospedali che fanno parte di questa forma diffusa di policlinico che tra l'altro è una forma che nei sistemi organizzati sanitari non è prevista e poi piano piano andare spostando l'obiettivo verso una provincia piuttosto che un'altra. Non ne facciamo una questione di campanilismo bensì una questione di ragioni politiche. No, secondo me non è l'uomo nell'altro, è una questione di economicità di gestione perché io non lo punto sull'aspetto politico ma l'economicità di gestione è fondamentale. Il Sant'Elia oggi ha le caratteristiche del policlinico, non vedo perché bisogna investire su altri ospedali per fare altri reparti per andare a fare il policlinico in queste condizioni. Su altri ospedali e su altri reparti ci possono essere delle situazioni di appoggio ma se il Sant'Elia ha già le cliniche, ha già le specialistiche e le super specialistiche perché dobbiamo andare a cercare da altre parti. Però dal policlinico diffuso lei quando è stata proposta questa idea, questa novità di istituzione, lei era anche contento? Assolutamente sì perché i territori devono fare squadra e noi sicuramente dobbiamo fare, dobbiamo unirci insieme ad Ennea di Agrigento per gestire la sanità e l'università. Su questo non ci sono dubbi però dobbiamo partire da quello che ciascuno di noi ha. Ennea di Agrigento per gestire la sanità e l'università benissimo, ne ha una sola, attenzione perché l'università istituzionalizzata è una sola, parlano pure anche della rumena, la rumena non è interessata da questo tipo di protocollo di intesa, che sia chiaro. Noi abbiamo un corso di laurea 25 annale di chirurgia di Unipa che è un'università pubblica, abbiamo il CEFPAS e abbiamo tutte le cliniche all'interno del Sant'Elia che è un D di secondo livello. Partendo da questo chiaramente si possono fare altri servizi da altre parti senza nulla togliere al Sant'Elia. Sì, per fare tutto questo ci vuole il denaro, Sindaco, perché stiamo parlando di una sorta di idea propositiva. Non è un'idea, questa è una realtà. Io sto andando a svuotare la Capoana per inserire il corso di laurea di medicina e chirurgia all'interno della Capoana e questo è soltanto un punto di partenza perché è chiaro che se va avanti il discorso del Policlinico come deve andare avanti all'interno del Sant'Elia si può fare l'aulario e tutto il resto. Per cui io le dico pure una... Gli investimenti sull'ospedale, Sindaco. Le annuncio che al 99% la settimana prossima, giovedì, probabilmente inizieranno i tavoli tecnici perché stamattina mi sono sentito con l'assessore Razza, andiamo direttamente giovedì a fare questo tipo di operazione e là noi vigileremo e andremo a perorare la nostra causa, ma che è una causa di economicità e di gestione, non è una causa né politica né territoriale. E intanto i tavoli tecnici però di solito si dice che si utilizzano per allentare i tempi, per far contenti i sindaci e tuttavia poi per non realizzare le cose. Guarda, io magari sarò un sindaco atipico, a me non interessa allungare i tempi, ma a me non interessa raggiungere il risultato e il risultato è quello dell'istituzione del Policlinico. Questo per me è l'argomento da andare a trattare, è l'obiettivo, da raggiungere prima delle elezioni regionali. Attenzione, prima delle elezioni regionali. Le elezioni regionali sono a novembre e lei si sta giocando il tutto per tutto. Non mi interessa, io sono qua a difendere la mia città e i miei cittadini. Quando si è cominciato a parlare del Policlinico ci sono state molte voci, dei cori, che dicevano che questa è una battaglia contro i mulini a vento, e che lei ha sollevato un polverone che svanirà come fumo nell'aria. Guardi, io le dico una cosa invece. Io ho rotto un giocattolo che era perfetto e l'ho smontato pezzo per pezzo e chi ha montato il giocattolo è perfettamente a conoscenza di quello che ho fatto. Lei sapeva che c'era un progetto? Assolutamente sì. E questo progetto tendeva a spostare tutto da Caltanissetta? I numeri potevano anche essere questi, ma non lo sono più. Però c'è anche il discorso del vecchio ospedale, nel quale vorrebbero omettere gli uffici dell'ASP. E questa è un'altra cosa che starà all'interno del tavolo tecnico, perché la porteremo all'interno del tavolo tecnico e controbilanceremo con qualcos'altro. Quindi sono situazioni che all'interno del tavolo tecnico devono essere dipanate, affrontate e risolte tutte quante. Io ricordo per il vecchio ospedale, per il Vittorio Emanuele, che la struttura di 9.000 metri quadrati è stata ceduta dal comune di Caltanissetta all'ASL, allora si chiamava ASL, col vincolo di fare struttura universitaria e all'interno del piano regolatore della città di Caltanissetta, oggi operante, è attrezzature culturali e universitarie. Per cui ci troviamo davanti a un problema. Il problema lo possiamo risolvere anche insieme. Il policlinico si istituisce con legge regionale. Con una delibera di consiglio, di assemblea regionale. Si istituisce con una legge regionale e quindi bisogna fare un disegno di legge che deve uscire dal tavolo tecnico e il disegno di legge deve essere approvato dall'ARS. Noi in sede di conferenza dei sindaci abbiamo ottenuto l'impegno assoluto dei nostri deputati regionali che erano presenti, anche quelli che non erano presenti perché l'onorevole Mancuso ha manifestato questa disponibilità. L'onorevole Nuccio Di Paola, l'onorevole Di Gela, tutti i regionali che non lo presentano hanno avuto assolutamente disponibilità. Siamo in campagna elettorale però, sindaco. D'accordo, ma io prima della campagna elettorale voglio chiudere la questione. E se non ci riesce? Farò di tutto per riuscirci, assolutamente. Io mi rendo l'impegno nei confronti della città. L'importante è che la città non mi lascia da solo. Ci sono i poteri forti dietro? La politica, l'economia, coloro i quali vogliono investire su questa grandissima struttura universitaria che è Enna? Ma devono investire sulla grandissima struttura che è Caltanissetta. Noi siamo qui per rilanciare il nostro territorio, per rilanciare il nostro centro storico. Abbiamo proprio l'intenzione, quella di andare a cambiare le sorti della città. Quindi io invito tutti quanti a investire qui. I poteri forti, come li chiama lei, non so se ci sono sul serio o sono delle cose che passano e sembra che siano quelle. In ogni caso io sarò qua, sul ponte della nave, a comandare la nave perché la nave la dobbiamo portare, anche se è in tempesta, ma la dobbiamo portare in acque tranquille e farla sviluppare bene. Ci sono delle grandi lamentali sulla struttura del Sant'Elia che in questo momento è depauperato. E là partiamo perché là bisogna assolutamente sviluppare di nuovo i primariati. Bisogna, secondo me, integrare il reparto di chirurgia toracica che non è poi così difficile da istituire. Così chiudiamo il cerchio delle specialistiche di altissimo livello e poi possiamo andare tranquillamente anche con il policlinico. Lei sa che sta toccando delle corte scoperte. Non mi interessa. Quanto si sente solo da 1 a 10 in questa battaglia? Abbastanza, però dalla parte mia ci sono i cittadini e su questo ne sono convinto. E secondo lei questo progetto i cittadini lo comprendono? Assolutamente sì. La vedo molto deciso. Sì. E allora, buon lavoro. Grazie. Grazie.